13 comuni e soltanto due pediatri in servizio. Con questi numeri il diritto alla salute dei più piccoli non può più essere garantito in Val Pescara, dove da circa un anno il pensionamento di due medici non rimpiazzati ha sovraccaricato gli ultimi due pediatri rimasti a operare su 13 comuni della Val Pescara, con notevoli disagi per i genitori costretti a percorrere svariati chilometri per le visite dei propri figli. A raccogliere la protesta è stato Domenico Pettinari, consigliare regionale del Movimento 5 Stelle e vicepresidente del Consiglio regionale. I due pensionamenti non sono stati rimpiazzati, quindi potete ben immaginare che tutto il carico dei pazienti che prima si riversava sui quattro pediatri adesso si deve riversare su due pediatri e questo non va bene, quindi politicamente io chiedo una soluzione per rimpiazzare quei due pediatri perché il sovraccarico di pazienti poi rende inevitabilmente un servizio non come quello che c'era prima, perché quattro medici non sono come due medici naturalmente. Io dico siamo legislatori regionali, la regione è autonoma, la regione può anche fare una proposta legislativa, può fare un accordo integrativo regionale che vada in deroga agli accordi nazionali. Per rimpiazzare i due pediatri l'unica soluzione che ci hanno dato è consentire la deroga al massimale che prima avevano questi due pediatri, ma la deroga significa andare a caricare, a sovraccaricare ancora di più di pazienti e non va bene così, quindi noi saremo accanto alle madri. Mi è stato detto, questo è un piccolo passetto avanti forse della regione Abruzzo, che a breve la regione si sederà nuovamente al tavolo per fare un'ulteriore concertazione per cercare di verificare nuovamente i numeri, ma questo è poco, io voglio la soluzione, quella di rimpiazzare i due pediatri che sono andati in pensione. Portavoce della protesta dei genitori questa mattina in Piazza Unione a Pescara è stata Silvia Gioffre. Il disagio che si è palesato per primo è la mancata possibilità di scegliere il pediatra per i nostri figli, senza togliere che anche chi aveva avuto in passato l'opportunità di scegliere il pediatra oggi si ritrova con lo stesso pediatra che anziché 800 bambini ne ha 1.200, 1.300, di conseguenza diventa un problema anche per chi il pediatra già l'aveva in precedenza, perché con tutti questi bambini diventa veramente non garantita l'assistenza giusta per ogni singolo bambino, secondo noi mamme. Sul nostro territorio abbiamo all'incirca 3.000 bambini da 0 a 14 anni. Ovvio che non sono attualmente iscritti dai pediatri 3.000 bambini, in quanto tante mamme in questa situazione si sono trovate costrette ad iscrivere i propri figli, anche di 7-8 anni, dai medici di medicina generale e aspettano il ritorno di un nuovo pediatra per poter riportare i bambini ai medici che hanno competenza per i bambini, perché se il pediatra esiste c'è un motivo sostanzialmente.